Per fortuna il 21enne Moldavo si salverà. Subito dopo l'accoltellamento, ieri sera, intorno alle 18, le sue condizioni erano apparse gravissime, se non disperate. Grazie alla tempestività dei soccorsi e all'abnegazione dei sanitari dell'ospedale maggiore, l'emorragia è stata fermata, le cure sono state efficaci e, per fortuna, quelle tre coltellate non hanno irrimediabilmente leso organi vitali. La prognosi resta riservata anche se dovrebbe essere scongiurato il pericolo di vita. La vittima del ferimento, dopo una notte passata in terapia intensiva, nell'area Codici Rossi del Maggiore, è ora ricoverata in medicina d'urgenza. I fatti della Galleria Pollidoro, due passi da Via Mazzini, pieno centro di Parma, lasciano sconvolti. Una lite tra ragazzini, la coda di una disputa di alcuni giorni fa, per motivi più che futili, la vendita di un telefonino, un bisticcio con una camicia strappata, e poi ieri una banconota da 20 euro che cade a terra e i rivali che equivocano sulla natura di un semplice gesto, un impasto di sbadataggini e aggressività che ieri ha convinto un albanese 21enne, pure lui, ad estrarre di tasca un coltellino e ad affondarlo nell'addome del suo nemico. Se non c'è scappato il morto, è stato un caso, e dire che sono ormai un paio d'anni che la questione delle baby gang e della microcriminalità alle spalle di Via Mazzini diventa ciclicamente materia per la cronaca, ma interventi concreti, pochi, se non nessuno, non c'è in zona videosorveglianza, i controlli sono stati compiuti, ma mesi fa è bastato mollare la presa, ed ecco il ritorno al selvaggio regolamento dei conti, adolescenti o poco più, padroni della strada, incuranti della paura dei residenti e delle proteste dei commercianti. Intanto la squadra mobile ha fermato l'accoltellatore, anche se il coltellino adoperato per l'aggressione non è ancora stato trovato.